Sono Viccare Antonio, sono uno tra i 27.000 eroi italiani del terzo millennio, residenti in quasi tutti i comuni d'Italia. Vogliamo essere eroi, non martiri. Mi rivolgo a te, che ancora non hai deciso di essere un eroe del terzo millennio. Unisciti a tutti quanti noi. Io ti capisco perché io ero come te. Poi ho iniziato a farmi domande per trovare le risposte. Ho approfondito molte argomentazioni che non mi erano molto chiare. Ho ascoltato persone professioniste, competenti, coerenti e soprattutto umane. Adesso mi rivolgo davvero a te come prima. Vuoi ancora sopportare questa situazione indotta e costruita ad hoc? Vuoi far parte degli eroi del terzo millennio? Vuoi porre altre domande? Se vuoi tutto questo, appuntati questo sito www.espostoepocale.it e collegati, registrati e prenute il suo esposto epocale. Fallo subito prima che qualche disumano fermi e distrugga nuovamente la dignità e la salute del cittadino in Italia e nel mondo. In attesa che tu agisca, ti ringrazio con il cuore mio e il cuore della maniera del preview che ti aspetta.